Primissimi giorni di lavoro per la nuova Alfaterna Pagani che è nata dall'unificazione dei due progetti. Alfaterna e Propagani, nuovissime ambizioni dopo una stagione eccezionale. Sì, ripartiamo con questa nuova avventura. C'è stata questa fusione che è stata resa ufficiale già ai primi giorni di luglio. I due presidenti, grandi amici, hanno pensato di unire le forze per cercare di fare una grande stagione. Qualche volto nuovo dalla Propagani Checco Marrazzo e Vittorio Somma. Ritorna Peppe Santorello lì davanti, Francesco Bove che porta esperienza nonostante la sua giovanità in difesa. Puntellato anche il reparto Under, un Alfaterna che vuole recitare un ruolo di grandissima protagonista, così come è accaduto nella scorsa stagione. Sì, per quanto riguarda, non è che abbiamo fatto tanti movimenti di mercato, abbiamo preso Somma dal Propagani. Da questa fusione sono arrivati Somma e Marrazzo. In più, su mia scelta è arrivato Francesco Bove che è andato a puntellare il reparto difensivo. Poi per il resto è stata confermata la rosa dell'anno scorso che ha ben figurato, soprattutto il gruppo dell'anno scorso. Perché quando si parla di Alfaterna si parla di un gruppo unito, compatto, neospogliatoio, dove si parla veramente di vera famiglia. Faccio anche a te la domanda sul girone. C'è la possibilità che giochino tutte le salernitane nel gruppo D? C'è anche però soluzione aperta con le Vesuviane e con la fascia irpina che confina con la provincia di Salerno. Ancora tutto aperto. Il 29 agosto dovrebbero arrivare le ufficializzazioni dal Comitato regionale. Parlare di preferenze serve a ben poco tenendo conto che sceglie appunto il Comitato regionale. Infatti noi non possiamo fare niente, ci possiamo solo attenere alle loro scelte. Per quanto riguarda i gironi, noi l'anno scorso pure all'inizio era un girone di fuoco con due grandi battistrate, la quale la Fragolese e il Barano. Alla fine sono andate tutte e due in eccellenza. Grandi complimenti a loro, due ottime squadre. Noi ce l'abbiamo messa tutta, partendo da matricola per poi recitare un loro da grande. Quest'anno vedremo, qualsiasi sia il girone, io quello che voglio dire, l'Alfa Terna non deve mai partire con l'obiettivo di vincere. Il nostro obiettivo deve essere quello di crescere. Ovviamente si può crescere. L'anno scorso abbiamo fatto grande, ma con 60 punti di playoff non siamo riusciti a farlo. Se quest'anno ha qualche punto in meno, ci può far fare qualcosa in più a livello di obiettivo.